Il mondo della mafia vive invisibile sotto al nostro ed è capace di portare via i figli e i loro genitori per trasformarli in assassini attraverso un rito chiamato Affiliazione. Quel mondo di sotto ha rubato persino una parola come famiglia dal nostro. La mafia chiama famiglie le proprie aggregazioni di criminali e i capi di queste cercano di sottrarre a Dio il potere di vita e di morte per essere gli unici, i soli, padrini. Bentornati nel nono episodio della storia di Cosa Nostra, l'intera storia della mafia siciliana. Siamo a Palermo, dove i corleonesi, sostenuti da Don Michele Greco, il padrino a capo della commissione di Cosa Nostra palermitana, stanno per scatenare la seconda guerra di mafia che li porterà ad eliminare tutti gli altri padrini palermitani, i più potenti padrini palermitani e vedere la loro scalata alla cupola della commissione. Inizia la scalata di Totorina e Bernardo Provenzano verso la conquista della Sicilia. Durante la seconda guerra di mafia entreranno a servizio dei corleonesi dei killer spietati. A capo di questo nuovo gruppo di fuoco agli ordini diretti di Totorina ci sarà Pino Greco, detto Scarpuzzetta. Insieme a lui Mario Presti Filippo, Filippo Marchese e Leo Luca Bagarella, il fratello minore di Ninetta Bagarella, la moglie del capo dei capi. Tra questi nuovi killer dei corleonesi, Filippo Marchese sicuramente è uno tra quelli che fruttò di più a Salvatore Rina. Difatti tra il 1981 e il 1982, in piena guerra di mafia, Filippo Marchese uccise nella sua Camera della Morte più di 100 mafiosi palermitani che si opponevano ai corleonesi. La Camera della Morte era un appartamento abbandonato situato sul lungomare di Palermo. All'interno di questo appartamento Marchese dava appuntamento alle sue vittime fingendo di voler parlare con loro per rovesciare Salvatore Rina. Una volta giunta sul posto però, le vittime venivano strangolate dallo stesso Marchese, il quale poi provvedeva a sciogliere il corpo delle vittime nell'acido oppure a tritarlo in minuscoli pezzi per poi gettare il tutto, i resti dei cadaveri, in mare. Ma a capo dei nuovi soldati fedelissimi di Rina, come abbiamo detto, c'era Pino Greco, detto Scarpuzzedda. Pino Greco proveniva da Ciaculli, il mandamento di Don Michele Greco, ma i due non avevano alcun legame di parentela. Scarpuzzedda venne soprannominato in questo modo perché il padre, appunto soprannominato a sua volta Scarpa, faceva il calzaloio di professione. Ma Pino Greco non si sarebbe mai accontentato di un futuro come quello del padre, costretto a lavorare per pochi soldi. E dunque entrò all'interno del mondo mafioso, entrò all'interno di Cosa Nostra, proprio grazie a Salvatore Rina, il quale gli diede la possibilità di far parte del commando che uccise il colonnello dei calabinieri Giuseppe Russo, come abbiamo visto nello scorso video. Durante quell'omicidio, Scarpuzzedda si distinzi da tutti gli altri per la sua ferocia e la sua crudeltà. Proprio questo convinse Salvatore Rina a metterlo a capo del suo gruppo di killer e ad affidargli il mandamento di Ciaculli come capo mandamento, togliendolo a Don Michele Greco, il quale ormai non era nient'altro che un burattino nelle mani di Corleonesi. Ed ecco che Totò Rina, forte del sostegno di Don Michele Greco, il Papa, e forte di questo nuovo gruppo di killer spietati, inizia la sua scalata alla Commissione di Cosa Nostra. Per prima cosa ottiene da Don Michele Greco il permesso di eliminare Giuseppe Di Cristina e Pippo Calderone, due padrini, ve lo ricorderete negli scorsi video, che avevano cercato di opporsi all'ascesa dei Corleonesi in ogni modo. Di Cristina e Calderone, a tutti gli effetti, firmarono la loro condanna a morte quando decisero di collaborare con i carabinieri. Il primo fu infatti Beppe Di Cristina, il quale avvertì i carabinieri del pericolo dei Corleonesi. Raccontò infatti ai carabinieri tutti i crimini di cui si erano macchiati i Corleonesi, raccontando che sarebbero stati un pericolo gravissimo per l'intero Stato italiano. E così, di fatti, avvenne. Dopo poco, anche Pippo Calderone iniziò a parlare. Insieme a Di Cristina, infatti, anche lui, che era capo del mandamento di Catania, avvertiva il pericolo dei Corleonesi, sapeva che tutti quanti erano a rischio, chiunque si fosse opposto all'ascesa di Todorina. L'idea, infatti, che Salvatore Rina volesse uccidere tutti i padrini della Commissione per diventare l'unico padrone della Sicilia era infatti un'idea molto diffusa tra le famiglie di Cristina e Calderone, e anche nella famiglia Badalamenti. Tano Badalamenti era uno dei padrini più forti presenti nella Commissione Palermitana, nel mandamento di Cinesi. Salvatore Rina sapeva che eliminare Badalamenti sarebbe stato molto più complicato rispetto a uccidere Di Cristina e Calderone. Sapendo che non avrebbe mai ottenuto il permesso di uccidere Badalamenti, come invece ottenne quello per uccidere Di Cristina e Calderone, si inventò un coinvolgimento di Badalamenti all'interno delle confessioni fatte ai Carabinieri dagli altri due padrini. Ebbene sì, Salvatore Rina, per cercare di deporre Badalamenti dalla Commissione, andò dagli altri padrini di Palermo e raccontò che non soltanto Di Cristina e Calderone si erano venduti ai Carabinieri, avevano cantato ed erano degli infami che quindi andavano uccisi, ma anche Gaetano Badalamenti, il padrino più insospettabile di tutti. Chiese quindi alla Commissione di metterlo da parte, di metterlo fuori dalla stessa Commissione Palermitana. Don Michele Greco si riunì con gli altri due padrini più forti ancora in carica all'interno della Commissione Palermitana, ovvero Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo. Insieme decisero che Di Cristina e Calderone andavano uccisi perché avevano parlato con i Carabinieri. Ma siccome invece non c'erano prove del diretto coinvolgimento di Tano Badalamenti, il quale era un padrino potentissimo, decisero che Tano Badalamenti non andava assolutamente toccato. Di Cristina e Calderone vennero uccisi dai Corleonesi nel 1978. Beppe Di Cristina, che era nato a Riesi nel 1923, scampò ad un attentato l'anno precedente, nel 1977. Attentato organizzato dai Corleonesi in totale autonomia, senza permesso della Commissione. Durante quell'attentato però vennero uccise soltanto le sue guardie del corpo, una delle quali somigliava molto a Di Cristina e venne scambiata dai killer per lui. Poco prima di essere ucciso e poco dopo aver raccontato ai Carabinieri tutto quello che sapeva sui Corleonesi, Beppe Di Cristina raccontò anche a Bontade ed Inzerillo che alcuni uomini loro fedeli all'interno delle loro famiglie erano le realtà delle talpe, degli infiltrati che andavano a riferire tutto quanto a Salvatore Rina. Cioè erano stati comprati dai Corleonesi con delle promesse per il futuro. Ma Bontade e Inzerillo pensarono che era soltanto il delirio di un pazzo ormai condannato a morte che cercava di salvarsi in ogni modo. Non sapevano invece che Di Cristina diceva il vero. E così un pomeriggio, mentre Di Cristina sta lasciando la sua abitazione, viene raggiunto da Leoluca Bagarella, al quale gli spara tre colpi nel petto, uccidendolo sul colpo. È il primo omicidio di Leoluca Bagarella che entra da quel momento a tutti gli effetti nel gruppo di fuoco dei Corleonesi. Dopo il battesimo del sangue, Leoluca Bagarella diventerà anche lui uno dei killer più spietati agli ordini diretti dello zio Totorina. Sempre nel 1978, come abbiamo detto, cade anche Pippo Calderone, capomadamento di Catania. Per ucciderlo, Salvatore Rina si alleò con Benedetto Santa Paola, che era il numero due di Calderone. Per convincerlo a tradirlo, Totorina promise a Nitto Santa Paola di diventare lui il capomandamento di Catania. E così di fatti avvenne. Tradito dal suo braccio destro, Pippo Calderone venne assassinato a colpi di pistola. Gaetano Badalamenti invece, come abbiamo detto, il padrino di Cinisi, che dava molto fastidio a Salvatore Rina per l'enorme potere che ancora deteneva, era rimasto al suo posto un fedele alleato della commissione valermitana di bontade e di inserirlo. Ma andiamo più a fondo all'interno di quel paesino, Cinisi. All'interno di quel paese non c'erano infatti soltanto mafiosi fedeli di Badalamenti, ma c'era anche un ragazzo, si chiamava Peppino Impastato, e aveva fondato una radio autonoma. All'interno di quella radio, durante i suoi programmi, denunciava Gaetano Badalamenti e i suoi crimini mafiosi. Giuseppe Impastato si prendeva a gioco di Don Tano Badalamenti, chiamandolo Tano Seduto all'interno dei suoi programmi radiofonici. Ebbene, Giuseppe Impastato era un ragazzo, il cui padre era fedelissimo di Gaetano Badalamenti, come quasi tutti gli uomini d'onore di Cinisi. Ma Peppino non ne voleva sapere nulla di mafia, anzi, la odiava. Proprio per quel motivo fu cacciato di casa dal padre, che non voleva più vederlo. Il padre di Peppino Impastato disse a Don Tano, L'unica cosa che posso fare, non potendolo uccidere perché è mio figlio, è cacciarlo di casa. E così, di fatti, fece. Ma Giuseppe Impastato non si fa scoraggiare per essere stato cacciato dal padre e nel 1977 fondò, appunto, Radio Out, una radio libera autofinanziata, nel quale conduceva il programma più ascoltato di tutti quanti, ovvero Onda Pazza a Mafiopoli. Durante questi programmi raccontava tutti i traffici illegali, legati soprattutto alla droga, che tutti sapevano, ma nessuno denunciava, legati al padrino di Cinisi Badalamenti. Controllando, infatti, a tutti gli effetti l'aeroporto di Punta Raisi, Tano Badalamenti faceva arrivare e partire partite di cocaina e eroina incredibili verso gli Stati Uniti d'America. Durante queste sue trasmissioni radiofoniche, Peppino Impastato, come sentiamo tra poco, raccontava, infatti, tutti questi fatti, invitando, una volta per tutte, la polizia e la politica ad intervenire contro Don Tano. Ovviamente, non appena iniziò questo suo programma, arrivarono anche le minacce di morte contro Peppino Impastato, ma Giuseppe non si fece assolutamente spaventare, continuò nella sua lotta. Addirittura, nel 1978, si candidò come sindaco per le elezioni comunali nella lista di democrazia proletaria. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o soprattutto del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione di Lizia. All'ordine del giorno, l'approvazione del progetto Z11. Sì, sì, lo Z11. Il grande capo, Tano Seduto, si aggira, si aggira come uno spargliero nella piazza. Sì, la commissione di Lizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Si aspetta il verdetto. Ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie. Il grande capo, il grande capo, i due grandi capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Ci è stato riservato per intero quel territorio che sta al di là della torre dell'Orsa Maggiore e al di sotto della grande pista dove atterrano gli uccelli d'acciaio. Ma Peppino Impastato non fece in tempo a sapere i risultati delle elezioni comunali, perché venne ucciso la sera del 9 maggio di quell'anno. Gli uomini di Tano Vandalamente infatti lo aspettarono all'uscita dalla sua radio. Lo rapirono, lo caricarono in auto e lo portarono nei pressi dei binari ferroviari che passavano vicino a Cinesi. Lì venne tramortito con una pietra che venne trovata sporca di sangue a pochi metri dal suo corpo. Venne ucciso e poi posizionato sui binari con una bomba nelle vicinanze. In questo modo i mafiosi volevano far passare la morte di Peppino come un incidente e far passare lo stesso Peppino come un attentatore, un terrorista di sinistra che voleva far scoppiare un treno. Non soltanto Vandalamente voleva infatti uccidere Peppino, ma voleva anche distruggerne l'immagine. Mostrare che era soltanto un terrorista di sinistra pericoloso per tutti quanti. Ma nessuno ovviamente credette mai a quanto avevano messo in scena gli uomini di Gatano Vandalamente. Tutti quanti sapevano che quello era stato un delitto di mafia. A partire dalla stessa mamma del povero Peppino. Ascoltiamola. E che fai tu? C'è un municipio. Tu ti porti al municipio. Non puoi essere figlio. Perché sei un elemento scomodo. Mi ha capito. Ti ammazzano figlio. Tu sei un ragazzo a cent'anni. Tu hai una vita davanti. Ti laurei. Ti rinforzi con il partito. E puoi fare tutto. Quando tu ti hai rinforzato con la tua età. che ti laurei. E mio marito. L'unico piacere che ti posso fare. Mi ascolta. Che io ti posso fare. C'è questo signore. Buttarlo fuori di casa. No. Il mio figlio è stato in casa mia. E io di nascosta di mio marito mi metteva a casa mia. Lo faccia mangiare. E poi la mattina. Perché poi si affettava. Stava una sorella mia. Oggi un c'è sta vecchio. E poi si affettava una casa. Ogni mattina ci portavo la pencheria io. Lei l'ha visto il film. Era tutto questo. Ogni mattina aveva questo problema. Non lo persi mai d'occhio. Non sopportava l'ingiustizia. Io ero andata in guai. Mi crede. C'era l'inferno in questa casa. Nata in guai. Nata in guai. Nata in guai. Non ci posso pensare. Quando volevo buttare fuori con un figlio di casa. Adesso di Peppino se ne parla tanto. Dopo il film soprattutto. Ora sono orgogliosa. Certo la ferita mi restò aperta. Però l'ho pensato tutti a Peppino. Sì. La lista di democrazia proletaria vinse quelle elezioni. E pensate. Il candidato più votato nonostante fosse già morto risultò proprio lo stesso Peppino impastato. Questo ha segno che tutta la comunità sapeva benissimo perché e da chi era stato ucciso Peppino. Cinisi stava cambiando. Cinisi si era schierata contro la mafia. Contro il padrino assoluto. Badalamenti. La mamma di Peppino Felicia che abbiamo ascoltato poco fa raccontare la dura vita all'interno della sua famiglia proprio a seguito del distaccamento di Peppino cacciato dal padre. Ebbene la madre non si diede mai per vinta. Continua a cercare gli assassini del figlio aiutata anche dal fratello. Ormai la parentela degli impastato con i mafiosi era stata del tutto distrutta. Grazie a Peppino e grazie a Felicia. E l'anno dopo il 9 maggio del 79 il centro siciliano di documentazione organizzò in collaborazione con il partito di Peppino Democrazia Proletaria la prima manifestazione nazionale contro la mafia pensate. Parteciparono a quella manifestazione più di 2000 persone provenienti da tutta Italia. L'epitaffio della tomba del povero Peppino a Cinisi recita ancora oggi così rivoluzionario e militante comunista assassinato dalla mafia democristiana. Ma chi era D'Ontano Badalamenti il padrino superpotente di Cinisi che aveva ucciso Peppino Impastato. D'Ontano Badalamenti aveva iniziato la sua ascesa nella cupola di Cosa Nostra nel 1963 dopo l'omicidio di quello che era il suo capo prima il padrino di Cinisi Mazzella il quale rimase ucciso proprio dai suoi uomini che lo tradirono per passare con Badalamenti all'interno della prima guerra di mafia. Proprio per l'omicidio di Mazzella Gaetano Badalamenti venne ricercato e si dette alla latitanza. Rimase latitante fino al 1969 quando venne assolto per insufficienza di prove quindi il mandato di cattura venne revocato e potè quindi tornare nella sua Cinisi. Ma nel 1971 all'interno di quell'operazione guidata dal giudice Terranova Gaetano Badalamenti venne arrestato per traffico internazionale dei stupefacenti e rinchiuso per un breve periodo all'interno del carcere di Luciardone a Palermo. Poi fu rilasciato anche lì per insufficienza di prove. Tornò quindi a Cinisi ma lì proprio come denunciò Peppino Impastato divenne il capo assoluto del traffico internazionale dei stupefacenti con gli Stati Uniti d'America. La droga partiva da Palermo andava negli Stati Uniti e a Palermo all'aeroporto di Punta Raisi con le stesse valigie che erano partite cariche di droga tornavano dagli Stati Uniti cariche di dollari. Questo potere assoluto di Tano Badalamenti ne faceva appunto uno dei padrini più potenti della Sicilia se non del mondo. Questo dava molto fastidio a Salvatore Rina il quale nelle sue riunioni con i suoi uomini continuava a raccontare che Badalamenti era un infame perché mentre loro morivano di fame si arricchiva con la droga. Badalamenti dava troppo fastidio per l'ascesa al potere dei Corleonesi per questo Salvatore Rina nonostante non avesse ottenuto il permesso a differenza di Cristina e Calderone per ucciderlo per toccarlo girò attorno a questo rivieto e assassinò undici parenti di Tano Badalamenti. Vedendo cadere come mosche appunto le persone intorno a lui Tano Badalamenti non si sentiva sicuro nonostante le rassicurazioni di Don Michele Greco di Inserillo e di Bontade e così fuggì in Brasile. Andò a nascondersi a San Paolo per paura di essere ucciso da Rina ma da lì continuava a comandare e a gestire il traffico internazionale di stupefacenti non soltanto più con gli Stati Uniti ma appunto adesso anche con l'America Latina tenendo sempre Palermo come punto di appoggio. Negli Stati Uniti e nel Sud America iniziò ad aprire moltissime pizzerie e ristoranti che usava come punto di spaccio lì arrivava la droga veniva venduta e i dollari venivano spediti a Palermo ma l'FBI ovviamente non stette a guardare una delle indagini che durò di più nella storia degli Stati Uniti d'America così come il processo che ne seguì il famosissimo processo che prese il nome di Pizza Connection appunto per il fatto che Badalamenti utilizzava quelle pizzerie italo-americane come punto di spaccio. Intercettato ed incastrato Badalamenti ormai sentiva al muro e per sfuggire alle griffe dell'FBI fuggì a Madrid in Spagna ma lì venne arrestato. Siamo nel 1985 quando Badalamenti viene stradato appunto negli Stati Uniti d'America dalla Spagna dopo essere stato arrestato viene processato insieme ad altre 18 persone accusato non soltanto di traffico internazionale di stupefacenti ma anche di numerosi omicidi e venne condannato dal verdetto finale a una multa di 125.000 dollari e a 45 anni di carcere. Famosissima è un'intervista che venne fatta a Gaetano Badalamenti proprio mentre si trovava in carcere negli Stati Uniti. Vediamo un piccolo estratto nel quale gli viene chiesto chi conosceva e chi no degli uomini appartenenti alla cupola di Cosa Nostra Palermitana. Può aiutarci il signor Badalamenti ha ripercorrere alcuni protagonisti personaggi del passato che forse lei ha incontrato ha conosciuto ad esempio Stefano Bontade ce ne è l'ha conosciuto ce ne può parlare? Sì l'ho conosciuto che personaggio era Bontade? Per me era una persona squisita sono stato interrogato e c'entrava la droga con Stefano Bontade sarebbe una grossa delusione se io veramente verrei a sapere che lui abbia avuto a che fare con la droga un altro nome importante in un certo contesto Michele Greco lei l'ha conosciuto? no non l'ho mai incontrato personalmente e Liggio? Luciano Liggio l'altro personaggio l'ho conosciuto cosa è stato? compare di battesimo di suo figlio? io non c'era quando lui ha battezzato mio figlio ah era fuori quindi conosceva bene Liggio pare che il battesimo sia stato un'emergenza che quando è nato mio figlio è stato battezzato dal primo venuto ma dopo è stato battezzato e Totorina? non lo conosco l'ho visto nel giornale è impossibile che vavamente dica che non conosca Arreina nel 2002 la giustizia italiana lo ha condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio di Peppino Impastato la battaglia iniziata dalla famiglia Impastato era stata vinta l'omicidio di Peppino è stato riconosciuto come di stampo mafioso Gaetano Badalamenti dopo molti anni di lotta contro un tumore morì nel 2004 per arresto cardiaco nel carcere degli Stati Uniti 29 aprile 2004 è morto negli Stati Uniti Tano Badalamenti il padrino di Cosa Nostra condannato all'ergastolo in Italia per l'omicidio Impastato Don Tano Badalamenti negli Stati Uniti stava scontando una pena a più di 40 anni per traffico di droga Gaetano Badalamenti ottantenne patriarca di Cinesi capo della commissione di Cosa Nostra all'inizio degli anni 70 custode di mille segreti sui rapporti tra mafia e politica e grande trafficante di droga è andato ad aggiungersi oggi dopo una lunga malattia all'esigua schiera di padrini morti nel proprio letto io sono stato tenuto 40 mesi in un penitenziario qua che si chiama Merian non c'erano motivi di mandarmi ci hanno mandato forse perché pensavano che trattato così avesse avuto qualche cosa da dire mi sarei confuso l'avrei detto ma non ho niente da dire e lì sa c'è 24 ore su 24 ore la possibilità di pensare il passato non ho mai trovato niente forse perché la mia intelligenza non è all'altezza di di capire mi pare che quello che ho fatto in vita mia lo ritornerei a fare credo di non avere fatto male e avere sempre cercato di fare bene il fratello di Peppino Giovanni Impastato è ancora oggi uno dei principali testimonial per la lotta contro la mafia una volta superate appunto la resistenza interna alla famiglia come abbiamo detto prima era legata alla mafia a Cinisi ebbene anche Giovanni si è esposto dichiarando che la mafia era uno schifo totale e riguardo alla storia di Tano Badalamenti come padrino di Cinisi disse queste parole sembrava che Badalamenti fosse ben voluto dai carabinieri in presenza dei quali era calmo sicuro e con i quali parlava volentieri sembrava quasi facesse loro un favore non facendo accadere nulla rendendo sicura e calma la cittadina di Cinisi spesso si potevano vedere camminare insieme a Badalamenti e ai suoi guardaspalle non si può avere fiducia nelle istituzioni quando si vedono braccio a braccio con i mafiosi Mario Francese era un giornalista siciliano iniziò a lavorare per il quotidiano la Sicilia a Catania ma nel 1968 passò alla redazione di Palermo perché vorreva correre dietro a Cosa Nostra e raccontare a tutti quanti che cos'era la mafia siciliana si ridicò infatti a Palermo della cronaca giudiziaria entrando in contatto con gli scottanti temi legati alla mafia per prima cosa la giornalista Palermo si occupò della strage di Ciaculli ve lo ricorderete l'Alfa Giulietta che venne fatta esplodere da alcuni mafiosi nel corso della prima guerra di mafia che causò la morte di poliziotti artificieri e finanzieri si occupò poi di seguire del processo di Bari quello di Cesare Terranova contro i corleonesi che vennero assolti si occupò poi delle indagini per la morte del colonnello Giuseppe Russo dei Carabinieri di cui abbiamo parlato anche prima per Pino Greco Scarpuzetta e fu l'unico giornalista ad intervistare pensate la moglie di Totorina Antonietta Ninetta Bagarella ebbene sì la intervistò mentre si trovava nel tribunale di Palermo perché era appena andata a deporre nel processo che la vedeva accusata appunto di essere la compagna di un mafioso del capo dei capi e Cesare Terranova ne aveva chiesto l'allontanamento da Corleone il soggiorno obbligato al nord Ninetta Bagarella era andata lì per difendersi proprio su consiglio dello stesso Salvatore Rina e intervistata da Mario Francese disse di essere solamente una donna innamorata Mario Francese indaga scrive nomi entra all'interno delle tematiche anche familiari di Cosa Nostra come abbiamo visto poco fa addirittura usò avvicinarsi alla moglie del capo dei capi ad intervistarla e questo irritò non poco Salvatore Rina oltre che tutti i mafiosi perché appunto Mario Francese fu il primo a raccontare come era organizzata la cupola di Cosa Nostra Palermitana fu il primo a parlare della commissione guidata da Don Michele Greco e Mario Francese pagò con la vita tutto questo ad appena 54 anni infatti la sera del 26 gennaio del 1979 venne assassinato a colpi di pistola sotto casa sua da Leoluca Bagarella per il suo omicidio vennero condannati Salvatore Rina Bernardo Provenzano e Michele Greco come mandanti e Leoluca Bagarella come esecutore le motivazioni della condanna furono il movente dell'omicidio francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia nei suoi articoli spesso anticipava gli inquirenti individuando nuove piste investigative quindi era un pericolo per la mafia proprio perché è capace di svelarne il suo programma criminale tutto questo grazie ai collaboratori di giustizia e riusciva così a conoscere la struttura e le regole di Cosa Nostra ma il 1979 fu un anno di sangue non soltanto a causa del diritto di Mario Francese fu un anno di sangue anche per le istituzioni palermitane e italiane che combattevano Cosa Nostra venne ucciso infatti anche il capo della squadra mobile di Palermo il commissario Boris Giuliano ad ucciderlo fu ancora una volta Leo Luca Bagarella ma questa volta i mandanti non erano i corleonesi non era Totorina ma erano Inzerillo e Bontade i capi della commissione insieme a Michele Greco di Palermo A differenza dei corleonesi i mafiosi palermitani come abbiamo avuto modo di vedere in questi video non erano soliti attentare allo Stato uccidere uomini dello Stato ma questa volta Boris Giuliano andava punito doveva diventare un esempio per tutti gli altri perché Boris Giuliano aveva appena sferrato un colpo micidiale contro la mafia di Palermo era infatti appena riuscito ad intercettare quelle valigie piene di dollari che tornavano dagli Stati Uniti d'America a Palermo ed era riuscito quindi a ricostruire tutto il viaggio che facevano quelle valigie che partivano cariche di droga da Palermo arrivavano negli Stati Uniti ed ali tornavano con i dollari provenienti dal narcotraffico proprio per questa scoperta per aver sequestrato delle valigie contenenti milioni di dollari Boris Giuliano finì nel mirino di Cosa Nostra durante le sue indagini per cercare di ricostruire dove poi una volta finivano quei dollari quando arrivavano a Palermo si imbatté in un libretto al portatore pensate contenente centinaia di milioni di lire che apparteneva a Michele Sindona pensate che in quel periodo si trovava a Palermo mentre stava inscenando il suo finto rapimento da parte della mafia come abbiamo raccontato nel video dedicato Boris Giuliano collaborò fianco a fianco con l'FBI nell'indagine appunto della Pizza Connection legato al traffico internazionale di stupefacenti tra Sicilia e Stati Uniti d'America collaborò per restituire il processo grazie alle informazioni che raccolse contro badalamenti negli Stati Uniti e stava preparando anche il processo contro inserirlo Bontate e tutte le famiglie mafiose di Palermo gli uomini di Boris Giuliano uscivano in strada la mattina e rientravano in commissariato la sera pattugliavano le strade fermavano tutte le persone sospette questo era il modus operandi di Boris Giuliano il quale voleva i suoi uomini presenti per le strade per intercettare i mafiosi per fermare tutti i sospetti e schedarli Boris Giuliano infatti inventò l'archivio un vero e proprio schedario con tutte le schede dei mafiosi o dei presunti tali quali venivano fotografati li venivano prese le impronte e veniva scritto sulle loro schede a quale famiglia mafiosa si presumeva che appartenessero durante tutte queste indagini gli uomini di Giuliano fermarono anche dei mafiosi corleonesi e li trovarono in tasca l'indirizzo di un appartamento di Palermo sito in via Pecori Giraldi all'interno di quell'appartamento la polizia scovò armi 4 kg di eroina e una patente contraffatta sulla quale era incollata la foto di Leo Luca Bagarella dopo la scoperta di una delle tanne più importanti dei corleonesi l'appartamento appunto in via Pecori Giraldi arrivarono telefonate anonime al telefono diretto di Boris Giuliano minacce di morte ma Giuliano continuò imperterrito nella sua lotta contro Cosa Nostra e così il 21 luglio del 1979 mentre pagava il caffè appena bevuto nella caffetteria Lux di via Francesco Paolo di Blasi Leo Luca Bagarella gli sparò ben 7 colpi di pistola alle spalle uccidendolo sul colpo poliziotto non si conquista la fiducia perché parla lo stesso dialetto o viene dalla stessa terra della comunità in cui lavora quindi io penso di sì se ha una preparazione professionale un poliziotto può essere poliziotto contemporaneamente oggi nel 78 a Palermo a Londra a New York o a Milano la stessa cosa ogni qualvolta ci siamo scontrati contro questo muro di gomma dell'omertà perché l'omertà non è che poi chiuda rimbalza fa di tornare il vero e questo per me è un muro di gomma l'abbiamo trovata nella maniera vera cioè quando uno non arriva a nessuna conclusione cioè meglio non può dimostrare niente l'abbiamo dimostrata cioè l'abbiamo riscontrata nel mondo criminale a mafioso che qua a Palermo c'è stato sempre c'è è molto sofisticato questa è l'omertà secondo me ma come abbiamo detto il 1979 fu un anno di sangue per le istituzioni e per tutto lo Stato italiano venne ucciso infatti anche il giudice istruttore Cesare Terranova aveva combattuto la mafia fin dai suoi esordi ve lo ricorderete ha seguito il processo e istituito il processo di Bari contro i Corleonesi ha seguito il processo contro Ninetta Bagarella numerosi processi contro Luciano Liggio e Salvatore Rina da poco era diventato capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo un ruolo che come sapeva benissimo sarebbe stato molto pericoloso perché gli consentiva di dare ancora più fastidio a Cosa Nostra mentre stava lasciando il Tribunale il suo posto di lavoro insieme alla sua guardia del corpo il fedelissimo maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso Cesare Terranova non fece in tempo nemmeno ad accendere l'auto fu raggiunto dal fuoco dei Corleonesi di Pino Greco Scarpuzetta di Filippo Marchese di Mario Presti Filippo i quali lo freddarono appunto sul posto sparandoli prima numerosi colpi di mitra al petto e poi finendolo con un colpo alla nuca di pistola Lenin Mancuso invece morì in ospedale dopo qualche ora di agonia Ugo Triolo ucciso il 26 gennaio del 1978 era il vice pretore di Prizzi ucciso su mandato e ordine di Bernardo Provenzano perché dava fastidio ai Corleonesi Salvatore Castelbuono fu ucciso il 26 settembre del 1978 era un vigile urbano del comune di Bolognetta in provincia di Palermo che collaborava con la polizia per dare la caccia ai mafiosi Filadelfio Aparo ucciso l'11 gennaio del 79 vice brigadiere della squadra mobile di Palermo uno degli uomini più fedeli di Borges Giuliani Michele Reina ucciso il 9 marzo del 79 era il segretario provinciale della democrazia cristiana che si era opposto pubblicamente a quelli che sembravano venire alla luce finalmente come degli accordi tra politica e cosa nostra Calogero di Bona fu ucciso il 28 agosto del 79 era un maresciallo in servizio presso il carcere del Luciardone di Palermo nel quale si rifiutava di concedere alcuni privilegi ai mafiosi detenuti il 10 novembre del 79 invece avvenne quella che passò alla storia come la strage di San Gregorio dove vennero uccisi i carabinieri Giovanni Bellissima Salvatore Bologna e Domenico Marrara i quali vennero assassinati mentre stavano trasferendo da un carcere all'altro un detenuto mafioso il quale era il vero obiettivo dei killer e il quale appunto rimase anch'esso ucciso nell'attentato di San Gregorio di San Gregorio di San Gregorio di San Gregorio di San Gregorio